marcello dell'utri marcello dell'utri paolo mieli beh sì è un processo quello a carico di marcello dell'utri che dura dura quanto dura 25 da 25 30 anni 25 30 anni e adesso paolo mieli paolo mieli e pensa che ci si deve riflettere su ciò che è accaduto a marcello dell'utri si deve riflettere ma io ho già dedicato un video alla sentenza assolutoria nei confronti di marcello dell'utri ho già dedicato un video questa mattina e in questo momento sto vedendo un video dove c'è l'intervista a paolo mieli e paolo mieli dice che dobbiamo riflettere su ciò che è avvenuto in questi 25 30 anni e semmai anche ammettere i nostri errori sentiamo cosa dice paolo mieli sentiamo dove abbiamo torto perché non si può andare avanti no ma io c'ho ragione comunque che domani ci sia qualcuno uno che dica abbiamo sbagliato qualcosa io sono uno di quelli capito anche paolo mieli dice che io sono uno di quelli cioè uno di quelli che avrebbero sbagliato cioè a giudicare barcello dell'utri e come un tra virgolette delinquente a paolo mieli caro paolo mieli caro paolo mieli eppure bastava guardarlo in faccia è marcello dell'utri bastava guardarlo in faccia marcello dell'utri per capire che marcello dell'utri è una persona innocente cioè che non noce non nuoce è un bibliofilo non dico bibliomani è bibliofilo cioè ama i libri ama i libri come serafino massoni solo che serafino massoni che ha quasi 82 anni è paolo mieli capito serafino massoni e questo signore qua sai paolo mieli solo che serafino massoni non ha mai ritenuto che è marcello dell'utri fosse colpevole per cui e marcello per cui serafino massoni non non deve fare diciamo così mea culpa no 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 perché io quando guardavo marcello dell'utri dicevo ma quest'uomo è innocente cioè innocuo innocuo non è un delinquente e invece paolo mieli tu adesso fai mea culpa sei bravo paolo mieli per carità e per carità però avevi qualche pregiudizio nei confronti di marcello dell'utri e la gente va guardata in faccia paolo mieli nel corpo nel volto nel volto nel volto ci sono i segnali di ciò che noi siamo lo vedi il mio volto paolo mieli cosa dici del mio volto paolo mieli guarda paolo mieli caro paolo mieli sono molto contento sai vabbè comunque che cosa si dice paolo mieli è errare umanum est perseverare sta diabolicum parola di serafino massoni che autore di tutte queste opere caro paolo mieli e serafino massoni che ripeto ha quasi 82 anni e opera su sulla potente piattaforma mondiale youtube youtube su youtube serafino massoni a circa 11 milioni di visualizzazioni ok paolo mieli ok a te paolo mieli a marcello dell'utri a tutti voi tanti cari saluti da da serafino massoni quindi Grazie.